Probabilmente a fine gara si potrà valutare o meno di passare 30 minuti. Ma vado a fare un'altra parte. Ma vado a fare una partecipazione. È possibile, vediamo. Ma l'aveteva costato di 15 secondi avanti. Ma che cazzo è possibile? Non potevo capire che entrava qui per la fase. Ma si perchè sono passati qui Sono passati già qui, non c'è ma l'arga Hai due secondi a stasera Non vedi quel mandato No, no Abbiamo tutte quelle gomme da pagnato a stasera Lo sto seguendo Freni a temperatura ottimale, ripeto, freni a temperatura ottimale Lui giri all'apertura della nostra finestra del pit stop Ti monteremo le gomme da pagnato Se continui a tagliare le curve riceverai una penalità dai commissari Non c'è 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 Sto taglia Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è C'è l'Ordona Di dove? Qui è uscito fuori, l'Ordona No nessuno ancora L'Ordona è concentrato oggi Eh lo so, era quarto Sei al limite ma se fossi in te rientrerei a cambiare le gomme Non sono sicuro che tu abbia quelle giuste per queste condizioni Ma mi dicono di mettere l'intermedio Eh pure a me Non so Ma non sono sicuro Ah poi aspetta un'altra volta Non voglio fare cazzate Le visioni del tempo Le visioni del tempo C'è già leggera tra 5 minuti E' stato con l'intermedio E' stato con l'intermedio E' stato con l'intermedio E' stato con l'intermedio E' stato ancora del tono Stai correndo con le gomme leggermente consumate Dovrebbero avere ancora un'aderenza sufficiente Ma fa attenzione, presto inizierà a tenere Cosa vuoi ricotti lì? I poveri grazie grazie andò a mettere con il scudo a battere a battere a battere e no non sapevo che entrava dove la morgan ok al prossimo pit stop ti montiamo le gomme intermedie merda gioco di merda ok ti montiamo le gomme intermedie al prossimo pit stop non entrate non entrate non entrate ma che cazzo che mi ha preso il pieno così ma che cosa si può 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 come io stavo prima della bufa ho girato la bufa ho fatto una pironetta per 20 secondi da fermo ma come cazzo si fa non lo so ma che mio sono appena uscito dal gas non fai stress mi stava solo qui ma che cosa si fa ma infatti io ho visto Precious era indietro 300 metri eh sono parecchio più ma dai non si può cazzo ma che gioco di merda a me mi stai a me sta baccata la bandiera in mezzo lo schermo a me mi rascacchi in mezzo lo schermo a me mi rascacchi in mezzo lo schermo ma hai corrispondato qua a mezzo perchè ero fermo in mezzo alla strada non c'è andato a sbattere contro nulla ma come a me mi rascacchiamo comunque la pista si è asciugata e riesci ad andare a mezzo F1 mi rascacchiamo ma guarda che roba con qualunque gioco domani ma come fa a craccare in qualunque gioco giusto? che comincia a piovere forte il craccare no il craccare no ma sono i trainer vedi Antonio com'è di pista hai visto? vedi Antonio com'è vedi Antonio com'è vedi Antonio com'è la pioggia diminuirà presto all'incirca fra due minuti previsioni del tempo previsioni previsioni del tempo oh oh cazzo ecco Morgan con i suoi citte un secondo mi è arrivato dietro ah ma c'è l'intermedio tutto stronzo ok ma sta bagnando troppo adesso scivola troppo troppo ma ricominciando a piovere non vanno bene ho staccato uno ragazzi non vai via dritto ma come vai con l'intermedia? eh male posso miscela tre per recuperare i secondi persi ma non non l'intermedia come non previsioni del tempo temporale per le 10 minuti ecco temporale per 10 minuti eh sì se c'erano caganti non c'erano andate per me la sentivo non mi ha provato sono già male oh la meno male che vanno male non so se non andavano male ma non vanno bene primo settore c'è un sacco d'acqua però un po' meno ma non vanno meglio un po' inquinata non vengono tanto target carburante sono stati tutti metti le pull wet perché inizia a piavare forte voleva mettele proprio la finestra del pit stop si chiude a questo giro stai perdendo un secondo a giro sulla vettura che ti segue ripeto un secondo prevediamo che la pioggia peggiorerà fra circa 5 minuti rovescio in arrivo previsioni del tempo previsioni del tempo previsioni del tempo eh piavare fortissimo no da intermedia adesso in questo momento ma che vabbè di niente di stagliotto stagato pregato c'ha adesso le intermedie prime mi chiamano visto se torna a piovere forte dobbiamo siamo costretti di entrare tutto non vuole pregare il capo io ahahah quando mi figlia con l'intermedia lo sai chi è ciao ciao roggio spostiamoci che stanno accendendo la cursa ok una partita tra di noi a che state col giro? a che giro? 29 su 36 stavo pieno cool vabbè vediamo te proprio ciao 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 è fatta che stagliato no non si capisce niente qua mi dice che si sta scioglando un inco un electro di rientrare ai box a questo giro ma adesso il primo settore piove di brutto è piangere più per terra figa i secondi che dovevi guadagnare di terra strano io vado tranquillo da intermedie no no si stanno alzando giro 1 e 16 adesso di acqua infatti ho fatto record nel settore centrale ma chi è che ha messo il intermedie tutti no io c'è acqua ma le mette io voglio dire che mi fanno segnare i tempi migliori su stai box per il cambio uno dei trucco variabile sto tempo si ferma un attimo e dopo subito ricordi non ho capace che in realtà prende per il culo tutti e noi spegniamo con le intermedie ma che cazzo mamma no ma non esiste la bandiera nera che ho toccato il cordolo ma non c'è una non ho capito ma dammi la penalità perché mi dè bandiera nera vedi che ce ne avevi fatte altro prima ragazzi ma che gioco di merda ma perché non vi pigliate sto cazzo di originale ma che mi stavo divertendo a recuperare dai non è possibile se non c'è ne ho capito la corsa con queste gomme arrivato al giro 31 sono arrivata ma le tue vabbè conti di prende ha fatto il 75% anche in mezzo, no? vero e che sta dentro di me, una macchina rossa? eeeh, Daniel come è possibile? è Daniel corrispondente interno la situazione delle gomme è interessante ma credo che sia meglio mantenere quel che abbiamo adesso e che ragazzo mi ha preso questa? perché ne avevamo 60 secondi in pista che carino? e te pensa alle gomme da bagnate invece di cor ah beh, i secondi te ne hai dato a scontare ma ne ho, c'è poca acqua adesso ma lo so mi volete decidere quelli ma avrei passato gli ultimi 10 minuti a rompere i coglioni sulle gomme da metto perché il problema gira in 1.20 se mette quelle che girano in 1.14 guadagna 5 giri e guadagna 30 secondi il problema è che il problema è per noi e mica bisogna dare consigli sulle gomme arfeld c'è dietro di te ha una specie giusto scusa ha fatto verde ha fatto verde nel secondo settore questo è blu ma che cazzo guarda come è blu guarda vedo lo aggazzo nooo tu vuoi tu sta tanto a fa un po' a me se fai lungo ti dà l'avvertimento ma vedete ma vedete ragazzi ragazzi non fate cazzate vi prego no vabbè no no non dico va a voi e uno precius per favore mi sto passando qui il mio rettilineo rallenta leggermente vi prego guardate io so cosa sono stato costretto no no mi starei prendendo shock no 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 lasciate no lì è che la sto sul cartello dei 50m che cazzo come cazzo faccio a cambiare macchina cazzo cazzo no cazzo non me lo cambi occhio a te scusa scusa ma sinistra me lo so ok restano 10 kg abbiamo 10 kg di carburante ma le gomme come stanno ah perfetto sono belle gialle ma meno male che non l'ho cambiato meno male meno male meno male un tazzo adesso è uguale a tutto posto non mi faccio farlo dove vai giac mi stai tirando il collo come una gallina non ce la fai a prenderlo giac è troppo avanti manca un giro non è che io stavo arrivando alla grande anch'io va con l'intermedio quanto giri per l'intermedio adesso te Matteo e quanto giri no quando sei sette secondi al giro minimo o meno dai 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 per voi quanto manca Warwell? un giro manca e quindi il traguardo ha finito si mi sa che adesso poi ricomincerà un po' a piove dai dai piovi piovi ti prego piovi piovi pioca l'hai notato pure te? adesso si vabbè sto cazzo che non posso neanche rientrare i prossimi vabbè Maria è piena di pioce che c'è? aspetta ho cominciato ora piove ecco qua ma dammi il taglio penalizzato poi dalle squalifiche poi mi è girata la macchina da sola e ha iniziato a girare per... mi ha fatto il mio mal di testa ha girato da nero va di tutto per tutto vai bastardo rimani via molto bene giri al ritmo del miglior tempo aspetta nooo sai come questo vuole è avuto un secondo mi spiace ci sarà per la prossima volta mi vedo dalle specchiette di Matteo pre attenzione eh ma passalo ma cazzo fai non passarlo ma zitto vedi che cazzo mi era male mi fai sbagliare tu uuuu vedi cosa fa il bello amore da nere si è giocato vodo ma ce l'hai neppicicato ma zitto ma lasso lo copro di me eh ma adesso non tengono più l'intermedio con quest'acqua qua eh raga io ho fatto uno sotto dal diciottesimo giro che ho queste cose te voglio bene grazie beh il problema è che... questo dov'è? vediamo a caino a caino a caino a caino c'è l'asciutto un po' più asciutto meno acqua attenzione prova lui attenzione uuuu attenzione a caino a caino un po' più asciutto un po' più asciutto è un po' più asciutto che c'è l'asciutto è un po' più asciutto